amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive oggi vi presentiamo per l'ennesima volta visto che ne abbiamo già presentate tante però sono vetture di successo un lavoro svolto su questa suzuki swift sport questa è la versione non è la versione hybrid per cui abbiamo già ne abbiamo già fatte vedere diverse sia come hybrid sia la versione diciamo termica normale diciamo che questa è la versione termica normale allora su questa vettura tralascio i dettagli tecnici perché le abbiamo già elencati in numerosi video il cliente ci ha chiesto però con una cadenza diciamo nell'arco di un sei mesi di fargli di fare un lavoro completo a livello meccanico cioè a livello motore assetto e freni per il momento abbiamo iniziato con la parte assetto che adesso vi elenchiamo e parzialmente sulla parte motore quindi per quanto riguarda l'assetto la macchina era completamente stock ovviamente abbiamo stituito gli ammortizzatori originali montando dei bilsen b8 che sono questi qua gialli con le relative molle e back pro kit come ho detto tante volte questi qui sono questi ammortizzatori sono degli ammortizzatori monotubo che vanno a sostituire i bitubo originali l'accoppiamento con le molle abbassa il baricento di circa 25 mm grosso modo e quindi il l'accoppiata molla ammortizzatore rende la macchina assolutamente molto più direzionabile molto più direzionata possiamo vedere anche la parte posteriore nel caso quindi l'ammortizzatore è questo con la relativa molla ovviamente davanti hanno degli attacchi diversi rispetto alla parte posteriore quindi l'assetto con questo tipo di sistema l'abbiamo completato a livello motore siamo intervenuti per il momento con due piccole cose il pedal booster adesso ve l'abbiamo fatto vedere innumerevoli volte comunque al solito discorso del pedal booster touch dove si va a variare la risposta sul pedale acceleratore la macchina diventa più reattiva più brillante e il filtro dell'aria ricordiamo una polemma che era venuta fuori tempo fa sul discorso filtro aria per la versione termica il filtro aria è disponibile mentre per la versione ibrida è in fase di produzione perché la scatola scatoletta filtro dalla versione ibrida è diversa quindi i due filtri non sono compatibili la prima volta non lo sapevamo abbiamo ordinato il filtro aria bmc per una hybrid nel senso per una termica pensando di montarlo sulla ibrida e invece il filtro era completamente diverso questa volta appunto essendo una termica abbiamo montato il filtro giusto quindi per il momento il tipo di lavori che ci sono stati commissionati sono questi poi già che ci siamo elenchiamo eventualmente quelli che sono l'elenco dei lavori che in due tre fasi il cliente andrà a completare per cui per quanto riguarda l'assetto sicuramente un discorso cerchi per avere delle gomme leggermente più larghe quindi un cerchio con un offset più basso per avere un diciamo un cerchio più traslato verso l'esterno e con una gommatura diciamo di un 10 per cento maggiore rispetto a quella attuale discorso freni anche in questo caso completamente stock abbiamo già visto che sono disponibili i dischi e pastiglie della abc questi sono chiaramente i dischi lisci ovviamente poi faremo anche un discorso estetico andremo a verniciare le pinze quindi sia per quanto riguarda l'anteriore che il posteriore andremo a cambiare mantenendo chiaramente il calettamento di serie quindi andremo a cambiare unicamente i materiali di attrito quindi dischi sportivi e pastiglie sportive con la mescola gialla per quanto riguarda il motore completeremo lo stage 1 allargandoci anche al disorso turbina quindi monteremo la classica centralina seletron come avete già visto innumerevoli volte con un guadagno di circa 24 25 cavalli in modo tale da portare questa macchina vicino ai 160 cavalli in più e questa ancora una cosa che stiamo discutendo con il cliente vediamo se fare un lavoro sulla turbina con uno stage dove cambieremo unicamente le giranti mettendo le giranti in avional quindi avendo un incremento sicuramente molto più fluido molto più dinamico dovuto alla minore inerzia delle giranti in avional un incremento di cavalli ma non consistente nel senso che la volumetria della chiocciola di aspirazione non cambia cambia la forma delle palette che diventano più lunghe per cui una quantità di aria maggiore entra sicuramente in camera di combustione quindi ci sarà un incremento nell'ordine di più o meno di un 7 8 per cento rispetto alla configurazione originale quello che cambia però moltissimo è l'elasticità il fatto che il turbo entra in pressione molto prima dovuto appunto a una un'inerzia molto minore rispetto alla giranti in acciaio grosso modo queste sono è un po la diciamo il progetto da qui a la primavera del dell'anno venturo per il momento la consegniamo con questi due lavori cliente sicuramente ci ha conosciuto tramite i video di youtube cliente che viene da vicenza fra l'altro e che niente è rimasto appassionato nei nostri lavori ha visto appunto tutte le precedenti puntate sulle suzuki swift e ha deciso di affidarci la sua macchina che è molto ben tenuta e molto poco sfruttata per cercare di portarla a un livello diciamo superiore a livello meccanico e di guida a livello superiore rispetto a quello di adesso io direi che per il momento è tutto come al solito vi invitiamo a consultare il sito www.9milagiri.it soprattutto andando a vedere l'archivio elaborazioni dove ci sono più di 3500 schede vettura dove inseriremo anche questa suzuki swift con il relativo video vi invitiamo a contattarci telefonicamente io sono sempre disponibile in sede allo 027383175 ci potete chiamare da lunedì al venerdì quando volete vi invitiamo soprattutto a cliccare sulla campanella e a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo un saluto alla prossima grazie